Non ne può più Carla Ferrari, 65 anni residente in via 4 Novembre a Castel San Giovanni, che ha scelto una forma di protesta del tutto singolare contro i furti, dopo che per ben tre volte i ladri si sono introdotti in casa sua portandole via tutto quanto era possibile rubare. Da qualche giorno le finestre della sua abitazione sono tappezzate di fogli con una scritta rossa, attraverso i quali la donna si rivolge direttamente ai ladri, avvertendoli che in casa sua ormai non resta più niente da portare via. La prima volta l'oro, la seconda volta quando hanno fatto il Papa mi hanno rubato tutti gli orologi, la terza volta hanno buttato in alto ma non c'è più niente perché l'unica cosa che mi è rimasta è la fede. Sotto il garage, sopra il terrazzo, non so come hanno fatto salire, l'unica parte che non ho tirato giù le tapparelle perché ho detto ma chi sale da lì? Chi sale da lì? Ci sono tre metri, invece sono saliti ma hanno rotto il vetro, hanno aperto, sono entrati. Ci hanno chiuso fuori di casa perché si sono chiusi dentro, sono usciti dalla camera da letto, dalla finestra della camera da letto e noi siamo entrati dalla finestra con la scala perché ci hanno chiuso fuori. Grazie.